Io ritengo che il punto focale, tra l'altro rispecchia anche il programma di Fratelli d'Italia, è quello di tutelare e promuovere il Made in Italy. Questo è il marchio più conosciuto e famoso nel mondo. Oggi la visione europea che insiste è una visione che inequivocabilmente vorrebbe annaquare il nostro percorso, le nostre tradizioni, le nostre origini, le nostre peculiarità e le nostre capacità. Come italiani siamo capaci di essere dei maestri in tante arti e su questo noi dobbiamo puntare, dobbiamo puntare su un'Europa che riconosca le identità nazionali, i popoli e le loro capacità. Noi abbiamo un problema di competitività. Questo molto spesso è legato al fatto che abbiamo delle infrastrutture che non sono capaci di essere all'altezza di quelle degli altri paesi europei, ma anche del Nord Italia. Ciò significa un aggravio di costi per i nostri imprenditori, per i nostri industriali, che di fatto hanno dell'eccellenza di prodotti che devono vendere un prezzo maggiore o arrivano in ritardo. Su questo i fondi europei sono un tocca sana per le nostre comunità, affinché di fatto possano colmare questo gap rispetto alle altre realtà e metterli allo stesso livello concorrenziale affinché chi è più bravo e chi è capace di produrre a costi minori e a prezzi da offrire inferiori.